Ciao a tutti ragazzi sono Carmine e benvenuti a questo nuovissimo video di Granny e oggi sono da solo perché Tommaso è andato un attimo via quindi anzi sono da solo a casa non c'è neanche mia madre comunque siamo tornati sul gioco della nonna oggi proveremo a scappare dalla sua maledetta casa comunque prima di cominciare questo video volevo salutare alcuni miei amici Andrea, Mario, Emanuel, Antonio e Fabrizia e anche Fabiana questi sono alcuni amici che saluterò adesso poi magari in un prossimo video ne saluterò altri alziamo un altro po' la voce anzi alziamo la voce perché non l'ho proprio alzata sempre la modalità easy perché la nonna ci deve essere e oggi proveremo a scappare dalla porta poi dipende nei prossimi video nei prossimi video faremo anche delle challenge su Granny perché ci sono dei trucchi dei nuovi finali segreti capito quindi li scopriremo mano a mano comunque voglio solo avvertire che questo video non sarà molto lungo ma vi avvierò il video solo quando troverò gli oggetti utili per scappare ragazzi ho trovato le pinze queste sono molto utili perché da le pinze andiamo un attimo qui distruggiamo oh nonna mamma ui cosa ci fai qui nonna cazzo push push nonna basta dai nonna nonna fai schifo ti ho fatto i complimenti adesso vattene oh vedi che te ne vai nonnina ciao ciao dai nonna però che ragazzi adesso dobbiamo fare una missione pompere qui e andiamocene andiamocene via 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 ok nonna ok nonna cosa ti porta da queste parti ma sei svegliissima ma ti mi dicevo di muoverti qua perché lei non è molto sveglia se ne andiamo di muoverti qua buongiorno sì salve non è molto sveglia adesso parla di cosa faccio non è molto sveglia volevo andare di sopra nonna nonna calmati dai nonna mi hai visto? sì mi hai visto certo che mi hai visto via 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 nonna calmati nonna ok la parla è qui le forbici eccola qui diciamo una controllata veloce non c'è niente però adesso vorrei ok noi ce ne andiamo per di qua andiamo qua nel giardino perfetto ragazzi siamo qui nello scantinato e guardate cosa ho trovato il telecomando e ovviamente chi non sa cosa sia il telecomando con questo possiamo spruzzare la nonna con lo spre al peperoncino ok ragazzi adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro al cofano di nonna rina scusami passo un attimo nel tuo garage facendo sempre attenzione il martello il martello ragazzi il martello è molto utile però qua abbiamo fatto l'umore quindi chiudi la porta mannaggia però qua non sapremo quando arriva la nonna perché non posso abbassare il cofano ragazzi su andiamo 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 rompiamo le assi rompiamo le assi sta nonna scema che paura che mi ha fatto prendere no adesso abbiamo perso il martello non ci credo ci ho provato a rompere l'asse non ci sono riuscito mannaggia la miseria adesso dobbiamo riprovare dobbiamo riprovare a prendercelo no nonna però e dai anzi no nell'armadio 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 è meglio è meglio è meglio così noi la vediamo anche arrivare ah nannina buongiorno no non possiamo neanche uscire perché le mi vede ciao nonna cosa ti porta da queste parti mamma mia no c'è mal di pancia purtroppo eh sì sono le giornate affuse affuse che vuol dire che ha detto eh nonna buongiorno è di sotto ok ciao andiamo 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 prendiamoci il martellano la campanellina rompi qua e andiamo via 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 mamma mia che prodigrenni via 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 perfetto perfetto più che paura ragazzi vedete qua qua ho la chiave della cassa delle armi allora facciamo cadere un po' con la chiave così la nonna la sente e dice qua c'è odore di nipotini e noi l'aspetteremo qui per poi metterla a nanna nonna eh sì ho chiamato il dottore e mi ha detto che oggi non è preso le pillole e cosa dobbiamo fare boh e ha detto che però non è un problema se il se te le prendi un po' ah visto nonna tieni ciao scusa nonna nonna no sul dardo però ok ragazzi noi ci andiamo un po' chi in giro e se spona noi saremo qui ad aspettarla ragazzi non sapete che mi serve solo la però io nel frattempo col dardo potrei anche sparare a loro due prendermi il cacciavite e scendere di sotto andando qui andiamo e qui ci troviamo la chiave della playhouse il che è perfetto quindi possiamo uscire anche fuori ok ragazzi siamo qui apriamo la playhouse andiamo qui entriamo ragazzi quindi se ci riprendiamo la balestra non so se la nonna è responata ma aspettiamo ragazzi ho rimesso a dormire la nonna così adesso possiamo però corri dai questo qua è così lento allora prima di tutto abbiamo due minuti e quindi noi ci pre... eccolo come pensavo che avevo sbagliato appena ci prendiamo questo ci vediamo nel giardino ragazzi sono riuscita a trovare la master key nella playhouse nella playhouse adesso alla pubblicità ragazzi togliamo sì sì mi manca solo la master key ragazzi sì 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 ragazzi mi sa che ce l'abbiamo fatta dobbiamo solo andare in giardino a prendere la master key ce l'abbiamo fatta sono uscito dalla casa della nonna sì sì non ci credo sono scappato tieni nonna sì ce l'abbiamo fatta sono uscito sono uscito non ci credo ah la pubblicità ha aspettato quindi ragazzi questo video finisce qui spero che vi sia piaciuto siamo riusciti ad uscire dalla casa della nonna io concludo qui il video lasciate un like e un commento e io vi vi ringrazio a tutti e ci vediamo con il video di domani ciao ciao